È una valanga di insulti e odio contro il governo di Giorgia Meloni l'editoriale di Marco Travaglio sul Fatto Quotidiano. Non potendoli purtroppo affidare agli infermieri per un bel zoo collettivo, hanno l'immunità pure da quello, non resta che guardarli e farsi quattro risate. Parliamo dei cialtroni che CS governano e che i cretini de sinistra chiamano sovranisti o fascisti. Senza accorgersi che qualunque aggettivo diverso da Berlusconiani li nobilita. In questo scenario la Premier ha il grave torto di averli riciclati e arruolati con maquillage posticci sotto le insegne della presunta destra. Li aveva pregati di dismettere almeno per un giorno i piedi di porco, i grimaldelli, i passamontagna e le calzamaglie nere e di travestirsi da persone per bene. Per poter celebrare l'anniversario di Borsellino senza lanci di pomodori. Prosegue Travaglio. Ed era riuscita persino a levare per qualche ora il fiasco a Nordio. Che se era affacciato in Parlamento per dire l'opposto di ciò che ha sempre detto e pensato sul concorso esterno. Anche se continua a confonderlo con il concorso di bellezza. Mattarella se l'era bevuta e aveva sbloccato la schiforma della giustizia. Insomma. Conclude Travaglio. Tutto sembrava filare liscio. Quando alla Camera si è votato sulla direttiva anticorruzione del Parlamento e del Consiglio europei però a bocciare il documento UE sono state proprio le destre. Con le consuete ruote di scorta Calendian-Renziane. Il motivo l'ha spiegato il relatore meloniano Antonio Giordano col solito gargarismo garantista pieno di vuoto. Le norme più dure contro le euromazzette sarebbero testualmente in palese contrasto con i principi di sussidiarietà e proporzionalità. Una supercazzola. Attacca ancora. Che ricorda quelle di B. Bossi per bocciare nel 2001 il trattato sul mandato d'arresto europeo. Garantismo contro Forcolandia. E serve a celare il terrore che pervade il grosso dei parlamentari quando leggono. Accanto al rinfrancante termine corruzione. Il terribile prefisso anti.